Il mio sogno è vincere Scudetto. Se tu giochi in Milan devi vincere. Non devi lottare per il sesto, settimo, o primo, o niente. In vita devi sempre avere voglia di fare di più. Uno che è soddisfatto si mette sul divano e si rilassa. Non voglio questo, voglio stare su dite e camminare sul fuoco. Perché così mi sento vivo. Rete ha pareggiato il Milan, Olivier Giroud, esattamente al ventinovesimo minuto, nel corso del secondo tempo a Sensino, c'è il pareggio del Milan. Rete ha raddoppiato il Milan al trentatresimo minuto. Bisogna credere. Quando vediamo cose, le cose arrivano. In un modo o in un altro. In un altro. Un altro. Grazie a tutti